Grazie per guardare il video, se ti piace lasciami un like e lasciami la tua opinione. E nel passare del tempo la PS5 è diventata sempre più introvabile, vista la sua poca produzione. Ma per i fans c'è sempre una luce alla fine del tunnel arriva da domani nel stoccaggio dei negozi e grandi catene di elettronica. Dopo tutto ciò è riuscita a raggiungere record nelle vendite nel secondo anno della sua uscita. Tutto ciò significa che tante persone sono riuscite a trovare una e portarla a casa. Da domani 2 novembre tornerà disponibile. Se questo video ti è servito di aiuto ti invito a far parte del nostro canale. E' gratis.